Io volevo dire solo questo qui che sono molto emozionato, molto emozionato perché quando si parla di Pasolini per me è un emozione continua perché insomma sono stato una persona che comunque con lui ha fatto dieci film, abbiamo vissuto degli anni ma molti anni insieme. Pierpaolo era uno scomodo e oggi vedere persone che si interessano a lui perché ha fatto degli scritti e delle opere eccezionali come l'ha fatto Pierpaolo, beh devo dire insomma oggi appa stanno a cominciare a capire, la gente capisce e questo è bello e bello e bello e mi fa molto piacere. Grazie a tutti!